e stamattina ci dedichiamo invece a riparare il camper perché anche quando vivi in un camper nascono dei problemini ed è saltata l'elettrovavola della stufa proprio ora che è inverno non ci voleva proprio siamo qui andiamo a vedere questo che ci dice un po' Alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.